benvenuti e benvenute sono greenbanship siamo al 29esimo episodio di magic rampage allora ragazzi vediamo un po dove eravamo rimasti avevamo affrontato il primo capitolo del quarto mondo se non mi ricordo male vediamo cosa c'è qui capitolo 1 livello 4 appendice perché mai non era questo l'episodio che avevamo affrontato l'altra volta a questa volta interpretiamo la ragazza tu vai avanti qua giù c'è una specie di nido di ragni forse è il momento vado in esplorazione forse è il momento c'è stato ci sono stati alcuni momenti in cui il nostro personaggio e la ragazza si sono separati e se non mi sbaglio uno di questi momenti era nella palude oscura o una cosa del genere ci sono acque troppe profonde per nuotarci va bene dobbiamo solo saltare allora penso che questo sia ciò che è successo alla ragazza in quel momento aia che male non abbiamo la stessa difesa che con il nostro personaggio questo sarà un problema dobbiamo che equipaggiamento abbiamo poco o nulla non abbiamo neanche chiavi pazienza non possiamo aprire rinforzieri vediamo un po ho una chiave abbiamo trovato una chiave aspetta da dove arrivi da dove arrivate in 27 neanche 12 ok sistemati perfetto la veste da jumpman perfetto aspetta questa ci torna molto utile eccola qua vedi area segreta aspetta che controllo un paio di cose tipo qui volendo eccola qua area segreta e due non siamo particolarmente veloci con questa veste devo dire la verità però saltiamo in alto armatura da soldato d'elite oh mamma mia la cattiveria però hai schiacciato un ragno e allora mi va bene e due ma se io tipo scappo via e basta non ho capito perché devo affrontare tutti sti ragni che tra l'altro fanno pure male a ok ok credevo di aver fatto una stupidaggine e invece invece no ho il nostro amico sembra che lo stregone abbia piazzato questi ragni sotto il castello e va bene che strano il mago dell'oracolo è il solo in grado di controllare i ragni allora comincio a fare due più due allora cominciano a comprendersi alcune cose no sono caduto rianima eh ci è costato un bel po' però pazienza ma da dove arrivano tutti questi esserini simpatici non avete altro da fare ragazzi cioè tutti qua ecco perfetto fatevi saltare per aria o la chiave la chiave come la prendo la chiave così questa è lava bene si è fatto esplodere non è più un problema nostro la cosa mi soddisfa molto cosa abbiamo preso? tunica della luna verde elemento magico terra aspetta che c'è un diamante ok abbiamo preso il secondo così vai a cercare il mago dell'oracolo alla palude oscura digli che dobbiamo aprire un portale sulla cima del vulcano istinto dovresti attraversare il portale appena i pianeti si allineeranno ho bisogno di te qui va bene però abbiamo c'è una chiave aspetta ci sono anche gli spuntoni eh vabbè apri apri veloce ok anello dell'acqua ordina il soldato dalla faccia sporca di accompagnarti attraverso la palude scura ricorda non attraversare il portale sul vulcano prima che i pianeti si allineino e prendi questo ne avrai bisogno cosa mi hai dato? ho un anello ah è l'anello dell'acqua aspetta vediamo nenia vedi è elemento magico acqua va bene quindi possiamo camminare sull'acqua l'anello d'acqua ti permette di camminare sull'acqua e questo ragno gigante beh ne abbiamo visti di più grossi eh ahia che male mi sono dimenticato gli spuntoni mi sono dimenticato degli spuntoni è tornato indietro spero di sì eccolo qua che cosa ci lancia addosso? aspettate devo ricaricare un po' l'energia altrimenti non riusciamo a lanciare le asce perché pure salta non solo ha otto zampe salta pure ah ok ce l'abbiamo fatta ha lasciato cadere la chiave perfetto va benissimo abbiamo concluso anche il secondo livello del quarto mondo stupendo ok ragazzi allora direi che per oggi ci possiamo salutare io vi ringrazio per avermi seguito spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale mettetemi un bel mi piace commentate condividete andate a fare un giretto sui social trovate il link in basso in descrizione e noi ci vediamo più avanti con un nuovo episodio buon proseguimento a tutti buon proseguimento a tutti